Allora, dicevo grazie per l'invito, fin d'ora mi scuso per i libiti del mio intervento che ovviamente risentono della mia esperienza di vita e professionale cui lei ha fatto riferimento. Ha già detto che l'invito è a riflettere sul paragrafo 113 dell'enciclica, è un paragrafo molto breve, nell'ambito di un capitoletto breve perché sono soltanto due paragrafi, però forse anche perché è un poco a metà strada dell'enciclica, ne rispecchia secondo me la complessa architettura. Perché in tutta l'enciclica vi è un continuo passaggio dalla riflessione sul singolo individuo o la piccola comunità a quella sugli stati o addirittura sulla comunità internazionale. Inoltre, certe volte il discorso si ferma volutamente, è chiaro, a un piano esclusivamente umano, poi si sposta a un piano religioso e teologico. Il nostro paragrafo poi rispecchia un'altra costante della fratelli tutti, all'indicazione degli aspetti negativi di una situazione, segue sempre, o cerca di seguire, la proposta di una possibile soluzione. Infatti, proprio perché il nostro paragrafo è al centro, a metà dell'encicla, diciamo, perdo tre minuti per cominciare dall'inizio. L'encicla comincia con, perché secondo me questo serve al discorso complessivo, l'inizio dell'encicla è dedicato alle ombre di un mondo chiuso, cioè spiega il Papa Francesco, alla descrizione di alcune tendenze del mondo attuale che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. Sono i drammi del nostro tempo che conosciamo bene. La politica, scusate, ridotta, cito, tra virgolette, ricette effimere di marketing che trovano nella distruzione dell'altro la risorsa più efficace. La cultura dello scarto, che è uno dei temi centrali di tutto il pontificato, le migrazioni, i rischi posti oggi dalla comunicazione, specie quella digitale. Infine, un elemento fondamentale che tornerà più volte nell'encicla e anche nel nostro ragionamento, il mancato rispetto in tante parti del mondo dei diritti umani, rispetto che invece è, dice Francesco, è condizione preliminare per lo stesso sviluppo sociale ed economico di un Paese, perché quando la dignità dell'uomo viene rispettata e i suoi diritti vengono riconosciuti e garantiti, fioriscono anche la creatività e l'indipendenza e la personalità umana di spiegare le sue molteplici iniziative a favore del bene comune. Quindi il rispetto ai diritti umani è visto non solo come limite negativo, ma come condizione per una crescita positiva. Naturalmente poi c'è un ampio riferimento al Covid, che ha fatto esplodere tutte le contraddizioni del nostro tempo, ha esaltato i rischi e ha mostrato la fragilità dell'uomo e la sua illusione di poter controllare ogni cosa. In queste condizioni, dice il Papa, l'isolamento e chiusura in se stesso, nei propri interessi, mentre dominano l'indifferenza di comodo, fredda e globalizzata, il sogno di costruire insieme la pace e la giustizia sembra un'utopia di altri tempi. Come dice il Cardinale Zuppi, il grande nemico di Fratelli Tutti è l'individualismo, per capire chi sono devo donarmi. E siccome il Papa non è, e anche, ma non è, uno storico e un sociologo, la sua visione è teologica e allora per lui il trionfo dell'individualismo e le sue devastanti conseguenze sono frutto del peccato. Adesso, quindi, Papa Francesco pone la ricerca di una luce in mezzo a ciò che stiamo vivendo, cominciando, come è ovvio, dalla parola di Gesù, dal Vangelo, e in particolare dalla parabola del Buon Samaritano, che dà la risposta alla domanda cruciale, chi è il mio prossimo? Tutti conosciamo la parabola, io faccio solo tre accenni dall'enciclica. Uno, l'importanza del dono del nostro tempo, specie mi permetto di aggiungere in modo autocritico, per quelli di noi che riteniamo e quasi ci vantiamo di non avere un minuto libero. Il secondo è l'affermazione che mi ha profondamente colpito, che ognuno di noi ha in sé qualcosa del ferito, qualcosa dei briganti, qualcosa di quelli che passano a distanza e non intervengono, e infine, direi anche per fortuna, qualcosa del Buon Samaritano. La realtà umana è sempre molto complessa e sfaccettata. Il terzo punto è che, dice Francesco, dobbiamo reagire all'inganno contenuto nelle frasi, nessuno può aggiustare le cose, cosa posso fare io, altro simile. Ne dobbiamo aspettare tutto da quelli che ci governano. Tutti, dice Francesco, abbiamo uno spazio di corresponsabilità, capace di avviare nuovi processi e trasformazioni. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli. E' possibile cominciare dal basso e caso per caso lottare per ciò che è più concreto e locale, fino all'ultimo angolo del mondo. Però, aggiunge, non facciamolo da soli. E ricorda che anche il Buon Samaritano ebbe bisogno del gestore della locanda a cui affidare il ferito. Queste riflessioni consentono di passare dalla fase, come dire, negativa alla fase propositiva, cioè il titolo del capitolo è Pensare e generare un mondo aperto, che ha come base la consapevolezza del valore unico dell'amore e del fatto che l'uomo non si realizza pienamente se non nell'incontro con l'altro e nel tono sincero di sé. L'individualismo, dice il Papa, non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. Anzi, dice ancora, l'individualismo è il virus più difficile da sconfiggere. Ci inganna, ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene comune. Sul bene comune, torneremo dopo ovviamente, ci deve essere ancora un amore universale che è promuovere le loro persone con i loro diritti in alienati. E qui siamo arrivati al nostro paragrafo 113, che fa parte di questo capitoletto, anch'esso brevissimo, perché compone solo il 112 e il 113, promuovere il bene sociale. A questo proposito, il Pontefice parte da San Paolo, che nella lettera ai Galati indica come un frutto dello Spirito Santo l'atteggiamento di volere il bene degli altri e spiega in che cosa consista questo atteggiamento e procurare ciò che vale di più e meglio per gli altri, la loro maturazione, la loro crescita in una vita sana, l'esercizio dei valori e non solo il per essere materiale. Per pigliare le sue parole, non solo l'elemosina, ma qualcosa di più. Poi in quell'esame oggettivo e senza sconti della nostra realtà che costituisce una delle costanti dell'enciclica, Papa Francesco scrive, virgolette, in questa linea torno a rilevare con dolore che già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell'etica, della bontà, della fede, dell'onestà ed è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale per metterci, finisce col metterci l'uno contro l'altro per difendere i propri interessi, che è appunto la prima metà del nostro paragrafo. E' il pontefice che sottolinea che gli torna a fare questi rilevi con dolori perché queste righe che abbiamo letto sono la citazione testuale di un paragrafo della Laudato Si, quindi del 2015. Il senso di questa affermazione è chiarissimo. L'individualismo che nasce dall'indifferenza, anzi dal disprezzo dei valori profondi, l'etica, la bontà, la fede, l'onestà, finisce per provocare la guerra di tutti contro tutti, come diceva il filosofo inglese Hobbes, homo homini lupus, l'uomo nemico per l'uomo. Mi ha invece meravigliato e incuriosito il termine allegra superficialità che lei ha ricordato e vuole forse indicare la dissimivolta leggerezza, l'incoscienza o meglio il rifiuto di prendere coscienza dello stato di degrado morale in cui siamo e dei drammatici problemi che ne derivano. Mi ha fatto pensare con un'immagine fin troppo abusata ai passeggeri che ballano sulla tolda del Titanic che sta per urtare contro l'iceberg che per affondare ed affondare. Naturalmente, come in tutta l'enciclica, dopo l'analisi della preoccupante situazione di fatto, il pontefice passa alla passe costumens e scrive, anche qui tra virgolette, volgiamoci a promuovere il bene per noi stessi e per tutta l'umanità e così cammineremo insieme verso una crescita genuina e integrale. Ogni società ha bisogno di assicurare la trasmissione dei valori perché se questo non succede si trasmettono l'egoismo, la violenza, la corruzione, nelle sue varie forme, l'indifferenza e in definitiva una vita chiusa a ogni trascendenza e sincerata negli interessi individuali. Quindi ritorno il tema base, sostituire la fraternità che significa ricerca del bene, trasmissione di valori positivi all'individualismo che genera egoismo, violenza e corruzione. E sappiamo che nella visione del Papa la corruzione non è certo solo il reato del codice penale, ma piuttosto la corrosione del cuore, addirittura più grave del peccato, perché, ha detto varie volte, non va perdonata ma curata. Questa passe costumens continua poi nei paragrafi seguenti dedicati al valore della solidarietà che dice il Papa si esprime concretamente nel servizio, che significa in gran parte avere cura delle fragilità e aggiunge solidarietà e pensare e agire in termini di comunità. È un modo di fare la storia. Ecco, secondo me il nostro paragrafo ha, come dire, la sua migliore spiegazione in quello che ovviamente viene prima, che abbiamo ridotto in pillole di quattro minuti e nei capitoletti che vengono dopo. Io aggiungerei tre brevi notazioni. Naturalmente l'esortazione del paragrafo 113, volgiamoci a promuovere il bene per noi stessi e per tutta l'umanità e così cammineremo insieme verso una crescita genuina e integrale, è un implicito riferimento al bene comune, in netta contrapposizione con la cultura della superficialità, anzi della allegra superficialità. Come sappiamo il bene comune è uno dei cardini della dottrina sociale della Chiesa. Secondo la definizione della Gauden Spes, quindi del Concilio, esso è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alla collettività sia ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa aggiunge che il bene comune non consiste nella somma dei singoli beni particolari di ciascun soggetto al corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è rimane comune perché è indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo anche in vista del futuro. Dunque, all'individualismo che è per tanti versi come l'enciclica ribadisce tante volte, all'origine dei problemi e dei mali della nostra società si contrappongono le reti di solidarietà la cui importanza essenziale è stata confermata ed esaltata durante la pandemia. Come scrive Luigi Nobruni che è uno meglio citerebbe il direttore, il bene comune è un bene fatto di rapporti, è una forma speciale di bene relazionale perché sono le relazioni tra gli uomini a costituire il bene. Certo, anche su questo il Papa non abbandona il suo realismo e mette in guardia dal pericolo che un'offerta di apparente solidarietà venga dalle mafie che, scrive, si impongono presentandosi come protettrici dei dimenticati, protettrici fra virgolette naturalmente, spesso mediante vari tipi di aiuto mentre perseguono i loro interessi criminali. C'è una pedagogia tipicamente mafiosa che con un falso spirito comunitario crea legami di dipendenza e di subordinazione dai quali è molto difficile liberarsi. Siccome questo diciamo che è il mio campo, diciamo che sono parole da esperto perché uno dei grandi problemi con le mafie è di capire che il problema c'è e ci riguarda tutti in tutta Italia, chiusa la parentesi, chiamiamola professionale. E con caratteristiche diverse si può pensare pure all'attività di usura su cui da ultimo proprio il caderno di Bassetti è tornato un mese fa. Al di là di questi casi gravi ma certamente minoritari, largamente minoritari per fortuna, rimane decisivo il ruolo delle reti di solidarietà la cui azione si ispira al fine della ricerca dell'affermazione del principio della dignità dell'azione umana. Con la consapevolezza peraltro che lo sforzo di un singolo o di alcuni o anche di molti è solo un passo di un percorso. Non dobbiamo pensare di poter risolvere tutto e subito, dobbiamo però cominciare a fare quello che dipende da noi. Sul tema dell'incidenza del principio di fraternità nella vita sociale ed economica mi rifaccia ad alcune osservazioni di un altro economista cattolico che ovviamente conoscete meglio di me Leonardo Becchetti però la citazione questa non è presa ad avvenire quella di prima sì. Becchetti scrive noi siamo esseri relazionali e la soddisfazione e la ricchezza di senso del nostro vivere dipendono dalla qualità della nostra vita di relazione e dalla nostra generatività ovvero dalla capacità delle nostre vite di contribuire positivamente alla soddisfazione e ricchezze di senso delle vite di altri esseri umani. La generatività non è altro che un principio di fraternità non solo nello spazio ma anche intertemporale perché se siamo generativi creiamo le premesse per migliorare la vita non solo presente ma anche futura tanto che aggiunge la transizione ecologica oggi indispensabile a che fare come con il principio di fraternità. Fa anche un esempio adatto dico io a uno spettatore di calcio in televisione come me possiamo essere messi o Cristiano Ronaldo ma se scendiamo in campo da soli non vinceremo mai nessuna partita. Ma torniamo al bene comune come l'abbiamo definito sopra e qua mi scuso di nuovo se prevale la mia anima di giurista tra le condizioni sociali necessarie anche nella nostra epoca per garantire le esigenze del rispetto e della promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali vi è anche e cito fra virgolette dal compendio della dottrina sociale un solido ordinamento giuridico. in modo più esplicito il candidato Bagnasco in intervento del 2016 ha scritto che l'ordine e la sicurezza sociale frutto peraltro di non poche componenti tra loro collegate richiedono un ordinamento strumenti e strutture coerenti al fine di assicurare anche appena adeguate che siano in grado di ristabilire l'ordine personale e sociale ferito che abbiano una funzione deterrente e nello stesso tempo tendano al riscatto umano del colpevo questo naturalmente è un tema molto interessante per me ricordo anche che la prima e unica intervista che ho dato dopo la nomina al presidente del tribunale vaticano la giornalista che era di famiglia cristiana mi chiese ma lei come si mette con l'evangelico non giudicata la risposta la troviamo nell'enciclica in quello che ora sto per dire infatti il tema della giustizia del perdono torna in più punti dell'enciclica anche perché dice ancora D'Agnasco nell'intervento che ho ricordato nel 2016 senza giustizia è impossibile perseguire il bene comune e quindi una società ordinata e vivibile leggo da due paragrafi dell'enciclica sono molto più avanti 241 e 252 ma che servono a chiarire equivoce domande ricorrenti sul rapporto fra giustizia e perdono domande ed equivoce che arrivano fino a chiedersi se il secondo cioè il perdono non debba implicare per un cattolico come noi che io che parlo molto protestamente voi che mi ascoltate la rinuncia alla giustizia questa è una cosa che si sente dire ma come tu non dovresti perdonare com'è che fai questo mestiere e invece il paragrafo 241 quindi Papa Francesco dice non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un potente corrotto a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità siamo chiamati ad amare tutti senza eccezioni però amare un oppressore non significa consentire che continui ad essere tale e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile al contrario il modo buono di amarlo è cercare in vari modi di farlo smettere di opprimere e togliergli quel potere che non sa usare e che lo deforma come essere umano perdonare non vuol dire permettere che continuino a calpestare la dignità proprio altrui o lasciare che un criminale continui a delinquere chi patisce in giustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia proprio perché deve custodire la dignità che gli è stata data una dignità che Dio ama se un delinquente ha fatto del male a me o a uno dei miei cari nulla mi vieta di esigere giustizia e di adoperarmi affinché quella persona o qualunque altra non mi danneggi di nuovo né faccia lo stesso contro altri mi spetta farlo e il perdono non solo non annulla questa necessità bensì la richiede e poi alcune pagine più avanti neppure stiamo parlando di impunità ma la giustizia la si ricerca in modo adeguato solo per amore della giustizia stessa per rispetto delle vittime per prevenire nuovi crimini e in ordine a tutelare il bene comune non come un presunto sfogo della propria ira il perdono è proprio quello che permette di cercare la giustizia senza cadere nel circolo vizioso della vendetta né nell'ingiustizia di dimenticare il tema della giustizia che mi avvia alla fine che secondo la definizione di San Tommaso consiste nell'attribuire a ciascuno il suo porta al tema della politica perché come dice ancora il compendio della dottrina sociale come del resto è facilmente comprensibile la corretta conciliazione dei beni particolari di gruppi e di individui è una delle funzioni più delicate del potere pubblico dice ancora il bene comune è la ragiondesse dell'autorità politica in altre parole compito della politica compito difficile specie di questi tempi è scegliere fra molti beni tutti in qualche modo meritevoli di tutela sceglie alcuni prenderli e alcuni lasciarli o comunque sacrificarli l'enciclica parla a lungo della politica col solito impasto di realismo e di visione lontano più volte il Papa lamenta che essa sia sottomessa all'economia dominata ormai a sua volta dal vicino efficientista della tecnocrazia e ricorda quanto siano frequenti gli errori la corruzione e l'inefficienza di alcuni politici e però dice Francesco proprio per fermare fraternità e amicizia sociale abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia e che porti avanti un nuovo approccio integrale anzi riprendendo le parole famose di Paolo VI Papa Francesco invita ancora una volta a rivalutare la politica che è una vocazione altissima e una delle forme più preziose della carità perché cerca il bene comune e giunge a parlare di amore sociale e amore politico il disprezzo per la politica penso che sia uno delle tragedie del nostro tempo persino quando è meritato e ancora il Pontefice semplifica il suo pensiero è un atto di carità dice altrettanto indispensabile l'impegno strutturato finalizzata a organizzare e a organizzare e strutturare la società in modo che il prossimo non abbia trovarsi nella miseria è carità stare vicino a una persona che soffre ed è pure carità tutto quello che si fa senza avere un contatto diretto per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza e fare esempi concreti se qualcuno aiuta un anziano a attraversare il fiume questa è una squisita forma di carità il politico gli costruisce un ponte e anche questa è carità se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare il politico crea per lui il posto di lavoro ed esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica poi per riecheggiare la nostra vita di ogni giorno e con il solito realismo Francesco aggiunge il politico è un realizzatore è un costruttore con grandi obiettivi con sguardo ampio realistico e pragmatico anche al proprio paese le maggiori preoccupazioni di un politico ecco il realismo non dovrebbero essere quelle causate da una caduta nelle inchieste bensì dal non trovare un'effettiva soluzione al fenomeno dell'esclusione sociale ed economica con le sue tristi conseguenze di tratta degli esseri umani commercio di organi e tessuti umani sfruttamento sessuale lavoro schiavizzato traffico di droga e armi terrorismo e crimine internazionali all'elenco dell'encica si può aggiungere un tema di drammatica attualità su cui peraltro la Chiesa e il Pontefice sono intervenuti intervenuto anche a venire riconoscere il vaccino contro il Covid-19 come bene comune globale assicurandolo cioè a tutti e non solo alle nazioni più ricche e potenti ma naturalmente per i politici per i magistrati per ognuno di noi tutto questo diventa possibile virgolette solo se si accette il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere una inalienabile dignità umana nella consapevolezza altresì che come ha detto il Papa il 4 febbraio in occasione della giornata mondiale la fratellanza umana o siamo fratelli o crolla tutto insomma come avete detto voi nel titolo dell'incontro della serie d'incontro si tratta di un'altra logica grazie grazie a tutti